Salve, sono Paola Mercurio, sono una streamer italiana e ho iniziato il mio percorso meno di tre anni fa. Sono Ixia dell'Agenzia Luce, sono una streamer su Bigo e nella vita sono una cantante e cantautrice. Sono Ailana Dimitrova, estetista di Milano, oggi ci troviamo nel mio negozio Ailana Estetica, ormai da dieci anni, ogni giorno arrivano persone qua a truccarsi, a farsi belli. Amicizia, perché Bigo Live riesce a creare tanti rapporti di amicizia. Non ci si sente mai soli quando si apre una live o quando si entra in Bigo Live. Allora Bigo è emozione unica nel cuore. Inclusivo. Perché una volta online puoi essere che vuoi, non c'è bisogno di essere qualcuno in particolare. Devo dire che inizialmente sono stata un po' titubante per la mia età. Perché ho sempre pensato che i social fossero rivolti ad un mondo giovanile e non un mondo adulto, comunque come sono io. E invece poi piano piano, dopo i primi timori, le prime paure, ho scoperto un mondo fantastico che anzi credo sia stato quasi creato per me Bigo Live. Era stata una giornata un po' particolare, non mi sentivo molto in vena di socializzare, quindi mi sono detta apro la live e comincio a disegnarmi la faccia. È un umore sicuramente allegro e spensierato, cosa che non avrei mai pensato. Io credo che tutti possono diventare uno streamer su Bigo Live, perché è proprio la diversità di ognuno di noi che può rappresentare una ricchezza per chi ci guarda attraverso lo schermo. Non c'è un tipo di persona preciso e stereotipata che può essere interessante ed attrattivo per il pubblico. Il pubblico è vasto e ognuno ha bisogno e vuol trovare qualcosa di diverso, un po' come la televisione. Si cambia canale proprio per cercare nella tanta offerta quello che più ci piace. E anche Bigo Live è così. Invito tutti i persone perché secondo me ogni persona può dare qualcosa di sé. Noi siamo come i colori, ogni sfumatura è bella, ogni colore è bello. Ti piace cantare? Puoi cantare. Ti piace disegnare? Puoi disegnare. Qualcuno con passione di cucina, qualcuno con passione di canto. Con Bigo dovete sentirvi liberi di partecipare, di creare qualsiasi cosa migliore che potete dare in pubblico. Innanzitutto la parola d'ordine è divertimento perché entrare in live con lo spirito giusto, con relax, con voglia di divertirsi automaticamente si trasmette questa gioia di vivere, questa gioia di stare a contatto con il pubblico. Perché anche se siamo dietro uno schermo i contatti sono molto ravvicinati perché si può parlare, si può, ecco, salire in live e quindi anche vedersi perché no. Quando venite nella prima live sul Bigo rilassatevi, sciolete i nervi, emozione arriva, datemelo di voi, non siete tesi perché Bigo è un'amicizia, Bigo è super top. Sono stata molto felice quando Bigo mi ha contattato per andare nell'evento mega top di Milano e soprattutto altro evento stupendo a Las Vegas Bigo Gala. Due eventi emozionanti, spettacolari. Io sono stata veramente super contenta, è vero Dino, perché Las Vegas è stata un'unica emozione. Ho incontrato tantissimi amici del tutto il mondo, era tutto organizzato in massimi livelli. Bellissimo, assolutamente bellissimo. Poi per me è stato ancora più importante, probabilmente perché erano anni che non saliva sul palco. Ci sono unite due bellissime esperienze che penso mi porterò per sempre nel cuore. Bigo mi ha dato l'acquazza di mettermi di nuovo in campo e ricominciare a fare anche le cose più semplici e banali della vita quotidiana. Adesso subigo, io parlo, rido, scherzo e la gente si scorda la situazione in cui sono. Ho lavorato tantissimi anni nel mondo della moda, in tv nazionali e tv regionale e ho sempre pensato che quella fosse la mia carriera e che l'avrei portata avanti chissà per quanti anni. Poi mi sono ritrovata ad un certo punto a volere qualcosa di più e quindi piano piano ho creduto nel mondo virtuale e ho creduto in Bigo Live dove riesco a fare quello che facevo in televisione. E quindi sono passata a sentirmi ex modella, ex ballerina, ex presentatrice, sono diventata tutte queste cose nuovamente perché sono una streamer di Bigo Live.